In occasione del seminario annuale riservato agli altri dirigenti ONU, il segretario generale Ban Ki-moon ha incontrato a Torino Palazzo Reale i rappresentanti delle istituzioni piemontesi, tra i quali il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. Ban Ki-moon e tutte le autorità presenti hanno espresso cordoglio e solidarietà per le vittime dell'attacco terroristico del 18 marzo in Tunisia, che ha coinvolto alcuni turisti piemontesi.